Congratulazioni per aver scelto un compressore Compair! L'efficienza, l'affidabilità e la qualità costruttiva tedesca, unite a 10 anni di protezione Air End con Ashore, fanno sì che la vostra macchina possa garantire molti anni di servizio senza problemi. Tuttavia, se non vi prendete cura del vostro compressore, ad esempio utilizzando filtri dell'aria non originali, non solo avrete un impatto negativo sui costi energetici e sull'impronta di carbonio, ma metterete anche a rischio la salute del vostro compressore. Se l'ingresso dell'aria è ostruito, il compressore consumerà più energia per produrre l'aria richiesta. In caso di filtrazione non standard, tutta la linea di aria compressa verrà compromessa. Rotori bloccati, olio contaminato, cuscinetti danneggiati e potenziali rotture generali del gruppo vite. E poiché avete utilizzato ricambi non originali, l'accordo Ashore non vi coprirà. Quindi, per mantenere il vostro compressore felice e in salute, per beneficiare di molti anni di servizio fedele, efficiente e senza problemi, vi consigliamo di utilizzare sempre filtri dell'aria originali Compare. Risparmierete denaro, sarete tranquilli e il vostro compressore vi amerà per questo. Compare Smart Engineering Bara